Un nuovo manto stradale per via Aureliano nella zona di Ponte Metauro. Partiti i lavori per la riqualificazione di tutto il tratto, parcheggi compresi ormai ammalorati da diversi anni. Un intervento richiesto a gran voce sia dai residenti che dai frequentatori che usufruiscono del posto, soprattutto durante la stagione estiva. I lavori sono iniziati ieri, domani finiranno l'asfaltatura, compresa dei parcheggi pubblici a lato della strada. È una risposta che diamo ai cittadini che chiedevano l'asfaltatura di questa strada molto ammalorata. Siamo riusciti a completare i lavori prima dell'inizio della primavera e dell'estate. Questo è un ottimo risultato. Ringrazio anche l'assessore Brunori che ha avuto rapporti con alcuni residenti di questa strada. e sollecitando l'amministrazione siamo riusciti ad inserirla nell'ultimo piano asfalti. A conclusione del cantiere, nel mese di marzo e tempo permettendo, partiranno i tanti attesi lavori di asfaltatura in tutta la città di Fano. Per quanto riguarda invece il nuovo piano asfalti di ben 3 milioni e 7, siamo in fase di gara. Conclusa la gara, inizieranno i lavori, diciamo nel periodo a primavera, riusciremo a fare questo enorme lavoro di 3 milioni e 7, soprattutto in periferia daremo una risposta a tante strade attualmente molto ammalorate. Grazie